Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale e a un nuovo video. Oggi parliamo di un altro film uscito in sala di recente, ovvero Joker di Todd Phillips. Io ho visto il film la settimana di uscita, quindi ormai si parla di un paio di settimane fa e non ve ne ho parlato subito, o comunque non vi ho spiegato subito i motivi per cui questo film mi è piaciuto perché non riuscivo a razionalizzarli. Per cui mi sono presa del tempo, ho visto nel frattempo Re per una notte di Martin Scorsese e ho rivisto dello stesso autore Taxi Driver, così da riuscire a creare un pensiero critico coerente e razionale. Infatti nei giorni immediatamente successivi alla visione di Joker non riuscivo a comprendere perché questo film mi avesse presa così tanto, mi avesse toccata così tanto e mi avesse angosciato profondamente. Io in sala ero irrequieta, non riuscivo a stare ferma sulla poltrona, mi muovevo continuamente e non perché non riuscivo a trovare una posizione comoda, perché il film è angosciante. Il film è un film cupo, è un film dolorosissimo e anche tutto l'apparato tecnico contribuisce a creare questa sensazione di smarrimento insieme all'inquietudine. Joker non la definirei la storia di Joker, come lo conosciamo noi, come è nella memoria collettiva. non è la storia di un anti-eroe, non è la storia di un supereroe negativo, non è la storia dell'antagonista di Batman. È la storia di un uomo, è la storia di Arthur, con tutte le sue problematiche, con tutti i suoi disturbi che vengono indagati, non freddamente, ma con cognizione di causa per tutta la durata del film. Per certi versi, per questa indagine sul dolore, sulla sofferenza, prima individuale, poi in relazione alla società o comunque la società accentua, mi ha ricordato moltissimo Split di Shyamalan. Non so se l'avete mai visto, io vi consiglio di farlo. Ho visto anche Glass quando è uscito e in Glass se ne parla ancora, anche perché è il tema portante dell'intera trilogia di Shyamalan. Però secondo me in Split è indagata con un'inquietudine maggiore, con anche una componente orrorifica per una buona parte del film. Però Joker non parla soltanto di dolore e sofferenza individuali, riesce a connettersi alla contemporaneità con tutto un discorso su come la società schiaccia l'individuo disturbato, l'individuo che crea disordine, che crea caos nella società, che la disturba, che non disturba soltanto se stesso ma anche il mondo che lo circonda. E si capisce che il messaggio è reale, è contemporaneo, è sentito, perché questo è un film che il pubblico ha sentito. Non so a livello di critica adesso, io so più o meno delle polemiche per quanto riguarda la critica statunitense, ovviamente, però la critica italiana è un po' su... l'ha accolto a quanto capito un po' tiepidamente. Ho sentito pareri positivi, molto positivi, ma non ho sentito pareri totalmente negativi, forse perché, non so, hanno paura di sbilanciarsi dall'altra parte. Poi per carità questo film, come tantissimi altri, può piacere, può non piacere e ci mancherebbe. Però ho notato che la critica italiana l'ha presa... o l'ha preso in termini positivi, o l'ha accolto positivamente, oppure in modo tiepido. Non so, non so se è perché hanno paura di sbilanciarsi, appunto, o perché effettivamente non ha trasmesso nulla a loro. Però per quanto riguarda l'accoglienza del pubblico, è stata molto calorosa. E questo... poi, anche qui, ci sono state persone che non l'hanno apprezzato, benissimo. Però, in generale, si capisce quanto questa tematica sia attuale, sia importante, quella della società che schiaccia l'individuo disturbato, che emargina ancora di più l'emarginato, sia questo portatore di una stranezza palese, o più subdola, più sottile, che cerca anche egli di soffocare, cercando di non farsi soffocare a sua volta da questa. In termini di realizzazione di tutto questo discorso, poi ce ne sono tantissimi altri collaterali. C'è, ad esempio, la società che viene rappresentata dai talk show, dagli show televisivi, e lo show che si sovrappone alla vita, con quella bellissima successione di inquadrature, la prima sulle tende dell'ospedale, non vi dico più di così, e quella immediatamente successiva delle tende dello spettacolo televisivo. Questo per farvi capire quanto la realizzazione sia stata magistrale, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'intenzione, quanto Todd Phillips, quanto il regista ci abbia pensato, ci abbia ragionato, in relazione ai più importanti, o meglio, a uno dei più importanti film che trattano di personaggi, che trattano di un personaggio emarginato, quale è Taxi Driver, con Travis Beagle. Todd Phillips poi collega Taxi Driver a Re per una notte, sempre di Scorsese, pensando a questo, a questo individuo, a questo individuo emarginato, in rapporto alla spettacolarizzazione dell'emarginazione. Per cui abbiamo da due parti New York, lo squallore di New York, in particolare con Taxi Driver, e la spettacolarizzazione della vita sociale, della vita politica, con Re per una notte. E in mezzo, Joker. Poi ci sono collegamenti più sottili, più palesi, come uno sottile, ad esempio, quando in Taxi Driver il protagonista fa il segno della pistola alla tempia e viene ripreso anche in un paio di scene di Joker, in termini ironici, ma con un'ironia sempre inquietante, sempre angosciante, come la risata di... del protagonista, di Jack in Phoenix. Per quanto riguarda il suo lavoro è stato magistrale. Non c'è, ammetto, o almeno io non l'ho trovata, una scrittura magistrale. C'è una scrittura ragionata, pensata, non l'ho trovata particolarmente brillante, però brilla grazie all'interpretazione di Jack in Phoenix, che, che vi dico questo... questa informazione, questa curiosità, se non la... se non lo sapevate, Joker doveva essere interpretato da Leonardo Di Caprio, appunto nel film di Todd Phillips, poi non so per quale motivo si è pensato a Jack in Phoenix. Ora, prima... io ho scoperto questa curiosità prima di vedere il film e non mi sarebbe dispiaciuto nemmeno Leonardo Di Caprio, però credo che sarebbe stato un Joker diverso. Jack in Phoenix, come ha detto in più di un'intervista, ha dato la sua interpretazione di Joker, ha creato il suo Joker, ha creato il suo Joker lavorando con professionalità e senza voler superare quelli precedenti, anzi, volendo... volendo rientrare, volendo far parte della loro schiera. E credo che ci sia riuscito, al di là delle preferenze personali che sono sacrosante. Quindi un film necessario per la sua attualità disarmante e per l'accuratissima indagine sulla sofferenza dell'individuo in rapporto alla società. Veramente un lavoro ben riuscito che ha trasmesso tutta l'angoscia e l'inquietudine che era nel... credo proprio nelle intenzioni iniziali. Sono molto molto soddisfatta della visione, direi che abbiamo già miglior film con... c'era una volta Hollywood, e miglior attore protagonista con Jacqueline Phoenix in Joker. Ci manca il film come... che porterà il premio alla miglior attrice protagonista e direi che siamo a posto. Non perché i premi tecnici non siano importanti, ma perché credo che già questi due film possono spartirseli tranquillamente. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi in questo senso. Ci sentiamo giù nei commenti, a me fa molto piacere parlare e confrontarmi con voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti